Fino ad oggi vivevo a Madrid, ora stiamo tornando con papà a Buenos Aires. Un nuovo capitolo della mia vita sta per iniziare. Oh, che bello vederti tesoruccio, faremo tante cose insieme. Abituarsi ai cambiamenti non è facile. Discuti con Jay, discuti con me, discuti con Angie. Mi vuoi dire che cosa ti prende? Mi manchi tanto, mamma. Ma presto il mio passato non sarà più un segreto. Che c'è in quella camera chiusa a chiave? Scusa, quale? No, no, non entrare. Che dico, Violetta? Ciao, Violetta, sono Angie, tua zia, la sorella di tua madre. E tutto sarà diverso. Qui, come sul palco scenico, lo spazio dovete guadagnarvelo ogni giorno. È il posto dei miei sogni. Perché non entri allo studio? Noi ti aiuteremo. Crescere è scoprire l'amore e tutte le sue complicazioni. E fidarsi dei migliori amici. Crescere è essere se stessi. Crescere è scoprire. Grazie a tutti